Mi serve un uomo con le vostre capacità. Non sono in vendita, sono un esecutore giudiziario. Ci serve aiuto. Siamo gente per bene cacciata da casa propria. Ammazzata a sangue freddo. E cerchi vendetta? Cerco giustizia. Ma accetto la vendetta. Passiamo alle cose formali. Sto cercando uomini, ho un lavoro. Ma è difficile? Impossibile. Serve qualcun altro per darci una mano. Quanti siete finora? Vi faccio vedere una cosa. Secondo me, quello è un orso vestito da uomo. Sento che stiamo legando. Bel branco di randaggi. Dì al tuo capo che se vuole la città... ...venga da me. Perché combattete la guerra di qualcun altro? Meritano di riprendersi la vita. Dai, spara! Il becchino avrà un bel po' di lavoro da fare. Non andrà a finire molto bene? Avete provocato un uomo sbagliato! Quanti uomini hai detto? Tutto in piedi, tutti in piedi anche sul divano. Arriva il cross! Sono capato, capo in sapato, la bella entrata, la bella entrata! E due a due! E due a due! Al segno del Milan! Cercano in bucate ai guardi, si gira! Mollo! I canti! Verso i guardi! Che giocatore! Dell'angolo, col predesso l'entrato a Mollo! Va a due sinistro, la mette è bassa e tesa, l'indievo a Mollo! Di Korni! Messino dietro di lui, Perisic! Un gol fantastico! L'opportunità di posizione, lo che vince! Trova i gol! Skrignian! Parti, Brozo vince! È dai 2 a 0! Sous-titrage Société Radio-Canada